Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi secondo appuntamento con i migliori super sub oggi ci andiamo a vedere come vi avevo preannunciato i super sub relativi alla fase difensiva quindi guardiamo dal centrocampo in giù, anche qua tanti giocatorini devo dire interessanti che fanno la differenza una volta entrati a partita in corso quindi direi di passare subito dove ci attende il primo giocatore di questo gruppo il giocatore che è Youssef Atal, carta che sicuramente la stragrande maggioranza di voi avrà sbloccato visto che all'epoca non costava praticamente nulla e quindi da tenere nel club ci fa sempre comodo 1,75m, alto normale, 4 di skill, 5 di piede debole per questa versione di Atal che per me può fare praticamente qualsiasi cosa vogliate può fare il difensore centrale, può fare il terzino, può fare l'esterno quindi poteva fare anche tra virgolette super sub offensivo di fatto andiamo a guardare le statistiche è super super veloce, ha anche dei buoni passaggi ha un ottimo parametro di freddezza per essere comunque un giocatore difensivo è molto agile, ha ottime statistiche difensive e ha anche un'ottima aggressività quindi paradossalmente potrebbe anche entrarvi a partita in corso da CC, da mezzala o anche da mediano, alla fine il work rate non è che ne risentite più di tanto ma questo qua è veramente il jolly del centrocampo, il jolly della difesa, il jolly della squadra è proprio il dodicesimo uomo che entra per dare manforte e può praticamente fare qualsiasi cosa voi vogliate quindi questo qua veramente stra 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 consigliato spero che voi lo abbiate perché se non l'avete sbloccato secondo giocatorino molto interessante è questo Gravenberg che si associa al discorso fatto con Van Bergen quindi è una carta obiettivo, ve la potete sbloccare dovete semplicemente andare a sbattervi un po' per fare gli obiettivi ma non è un problema 1,90m di giocatore, piede destro, 3-3 guardate qua che statistiche ha questo ragazzi 80 di accelerazione, 86 di velocità scatto potenza tiro 96 passaggio corto 89 lungo 88 agilità addirittura 87 però chiaramente per via del body type 1,90m con 82 di forza non sarà mai agire così però comunque con l'L2 e mezzo al campo scivola abbastanza bene peccato la freddezza ma ragazzi dei giocatori dal centrocampo in giù avere parametri di freddezza buono è un attributo, è una cosa molto molto rara questo qua è veramente tanta roba può fare tranquillamente il mediano può fare anche il CC anche se comunque è un giocatore molto 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 piantato quindi non vi aspettate che vi faccia grosse galoppate del tipo agile e che vada spesso a incunearsi nell'area avversaria assolutamente no però magari da CC in un rombo ci può anche stare per un ruolo proprio consigliato per lui il CDC e potreste anche provare la genialata di farlo entrare da DC qualche volta perché no molto molto valido sto Gravenberg vi ripeto io non l'ho ancora sbloccato lo devo fare lo devo piazzare in panchina lo devo tenere là perché ci sta un botto da super sub altra carta molto interessante è questo Closter ma nella sua versione base ragazzi nella sua versione base abbiamo un dimensione centrale con 84 di velocità conviene sempre portare una carta che possa giocare come DC visto che magari vi capita un rosso eccetera eccetera per evitare di fare cose strane e appunto andare a tappare i buchi con giocatori che in realtà quel ruolo non ve lo possono ricoprire 1,87 normale normale guardate qua 88 di velocità scatto e 79 di accelerazione passaggi un po' così e così statistiche difensive ottime devo dire ottime per una carta per una carta base pecca un po' in aggressività ma la sua facilità un po' lo fa recuperare sotto questo sotto questo punto di vista quindi veramente tanta roba il buon cluster ma anche io l'ho utilizzato da super sub avendo la sua carta champions non scambiabile devo dire che il suo lo fa alla grande assolutamente non lo utilizzerei da mediano anche se qualcuno potrebbe far singolosire visto che ha dei piedi totalmente fucilati oltre all'avere 2 di skill e 3 di piede debole altra cartina molto interessante è questo capa anche qui parliamo di una carta obiettivo per cui non vi costa nulla andarvela a sbloccare come potete vedere io l'ho fatta un metro e 75 alto alto peccato in questo caso per il 3-3 però parliamo di un giocatore che è molto rapido ha anche un ottimo passaggio corto un po' meno in lungo ottime statistiche per quanto riguarda agilità, equilibrio, reattività controllo palla eccetera ottime statistiche difensive ottime statistiche di aggressività e forza e anche in questo caso abbiamo un 80 di freddezza che per un giocatore che si aggira nelle parti della metà campo è tanta roba qui gli farei fare anche in questo caso il mediano gli potreste anche far fare il dc in qualche situazione e qualche volta perché no il terzino qualora dovesse dovesse servirvi il cc eviterei visto che comunque non è che questa gran finalizzazione è un 3-3 quindi non è che vi crea questa superiorità numerica in mezzo al campo se lo volete utilizzare con un minimo di proiezione offensiva altro giocatore che merita la nostra attenzione è Stokorezka che magari molti di voi hanno pick è una carta che non costa poco costa più o meno quanto il promise che vi ho visto nel video precedente però ci ho tenuto a metterlo perché questo qua qualora avete dei crediti così dispari che volete buttare su un super sub questo ve la svolta al centro campo perché è una sorta di gulit gang per gulit gang sapete che si intendono quei giocatori che hanno 80 in tutte le statistiche è giusto quel punto in difesa gli manca per essere un gulit gang 1,89m 3 di abilità 4 di skill intanto ho trollato e vi ho spoilerato il giocatore dopo è veloce ha un'ottima freddezza passaggi veramente al top ottima forza ottima aggressività ottime stazze difensive per quello che è un giocatore che andrei a far fare il medianaccio assolutamente sicuramente non il cc perché è piantato e questa gran qualità non ce l'ha si potrebbe anche improvvisare da dc qualora ce l'avete appunto pick rosso piuttosto che utilizzare quel cluster ma non potete piazzare anche sto Goretzka come dc anche se magari quell'accelerazione si gli permette di avere un primo passo felino ma poi sull'allungo un pochino va a perdere come vi avevo spoilerato per errore il giocatore successivo è Dama Traoré anche qua se l'avete sbloccato gg perché questo qua vi entra in difesa da dc da terzino potrebbe fare anche l'esterno vi spacca veramente la partita un giocatore che non costava poco all'epoca io l'ho fatto e l'utilizzo super sub perché l'ho pagato zero un metro e settantotto alto alto addirittura 4 di skill vabbè velocità ragazzi parla per sé forza 90 c'è un body type clamoroso potrebbe fare d'angulante il wrestler un po' alla Kim Fenwa statistiche difensive al top passaggi un po' così e così occhio anche alla freddezza ma vi ripeto che per i giocatori difensivi è un parametro che conta relativamente e sto Dama è veramente tanta roba soprattutto utilizzato adc l'ho visto essere utilizzato in quel ruolo anche da tanti pro e devo dire che si trovano tutti quanti bene l'ho trovato anche contro non fa passare un filtrante e prende a sportellate tutti il buon Adama quindi anche lui super promosso altra carta che mi sento di inserire all'interno dei super sub è il buon Semedo che come potete vedere io ho uno scambiabile l'ho utilizzato per 740 partite l'ho tolto perché per me il canselo della Champions è superiore ma questo qua può tranquillamente dire la sua da super sub sia come terzino sia come difensore centrale l'ho utilizzato anche qualche volta quando mi si creavano dei buchi spostavo Semedo centrale e magari un esterno a fare il terzino ovviamente è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni è molto veloce c'è anche un body type molto agile che nonostante il 66 di forza vi permette di recuperare tanti palloni è difficile che vi perda un contrasto si potrebbe tentare anche da DC se proprio non avete crediti e vi serve un super sub in quel ruolo è molto molto agile come potete vedere 87 di agilità per l'appunto il reattivo la freddezza anche in questo caso siamo lì al limite ma non è questo questo grosso problema per una carta che ormai vi portate a casa con molto poco e può esservi da factotum in fase difensiva quindi raga per quanto riguarda anche quest'altro video relativo ai super sub è tutto vi raccomando like e commento con le vostre opinioni iscrivetevi al canale perché stiamo andando una bomba per tutte le info sulle live giornaliere trovate news in descrizione e a me non resta altro che salutarvi ciao raga grazie a tutti i nostri